Giovani, fuori il popcorn. Vi racconto la storia del vichingo dello spazio, Thor, figlio di Odino. Non era un uomo comune, era un dio. Dopo aver salvato il pianeta Terra 500 volte, iniziò un nuovo viaggio. Si rimise in forma. Trasformò un fisico flaccido in un fisico da dio. Dopodiché, Mjolnir rivendicò il titolo. Di solo ed unico Thor. Ho parlato troppo presto. Jane? Alla mia ex. Quanti sono? Tre, quattro anni? Otto anni, sette mesi e sei giorni, più o meno. C'è del tenero? Certo. Agli dei importa solamente... ...di loro stessi. Questa è la mia promessa. Tutti gli dei moriranno. Sono rimasto molto, molto colpito da quello che hai fatto prima. E io sono il mio primo cattivo. Ma il primo non si dimentica mai. Non sei come gli altri dèi che ho ucciso. Con te vale la pena combattere. Vediamo chi sei. Togliamo il travestimento e... Spoglio! Oh! Hai spogliato troppo! Maledizione! Dovremmo aiutarlo? Sì, dopo. Un po' d'uva?